Non è vero che a Pasqua i lavoratori della Magneti Marrelli di Sulmona devono lavorare, ma è da mesi che si è lavorato su un'ipotesi di turnazione che ha consentito a tutti i lavoratori di festeggiare con i loro familiari non solo la Pasqua, ma anche la Pasquetta e senza nulla cedere nei loro diritti contrattuali. E quanto precisano dalla FIMCIS, lo Wilm e UGL di Sulmona a proposito dell'apertura dello stabilimento della Sistemi Sospensioni giorno di Pasqua. A lanciare l'allarme nei giorni scorsi è lassata la FIOMCGL della provincia dell'Aquila, chiamando in causa anche il Vescovo di Sbuonavalva, Angelo Spina, che si è dichiarato disponibile a un incontro con i lavoratori e i vertici dell'azienda. Il 6 luglio 2016, ricordano da FIMCIS, lo Wilm e UGL, si era stabilito che lo stabilimento della Magneti Marrelli di Sulmona aveva la necessità di estendere 18 turni a tutto lo stabilimento con uno schema di turnazione che consentisse più ampio intervallo di riposo tra il sabato e la domenica. Quest'anno, grazie agli accordi del 28 dicembre, in cui è stata spostata la festività del Santo Patrono a 7 gennaio e alla fruttuosa e vantaggiosa gestione delle giornate di Pasqua e Pasquetta, i lavoratori hanno già fruito di un weekend lungo dell'Epifania, fruiranno delle festività pasquali e avranno weekend lunghi anche di tre giorni di riposo tra una settimana e l'altra nel corso dell'anno. Solo in 5-6 case in tutto l'anno il weekend sarà circa di un giorno e mezzo tra il sabato e il terzo turno della domenica di 32 ore. Ma anche per questo piccolissimo inconveniente lavoreremo sempre con efficacia per costruire soluzioni come quelle già sperimentate nelle festività dell'Epifania e in quelle pasquali, assicurano del sindacato.